Ho appena stretto la mano a Luigi Di Maio facendogli complimenti per la vittoria al referendum popolare. Il referendum è la festa della democrazia. L'affluenza è stata un'affluenza importante. Il risultato, viste le proiezioni delle sezioni che abbiamo, sembra ormai delinearsi come un risultato più o meno definitivo. Un ringraziamento, mi permetto di farlo in primo luogo, a quei parlamentari, a quei senatori che hanno raccolto le firme per fare domanda ai sensi dell'articolo 138 affinché questo referendum si celebrasse. Rispetto a quello che ci dicevano i sondaggi solo un paio di mesi fa è un risultato straordinario. In poche settimane si è invertita una tendenza che aveva alle spalle un paio di decenni di antipolitica. L'abbinamento al quale io personalmente insieme a pochi altri colleghi alla Camera e al Senato ci siamo opposti non ha aiutato, ha tirato, come noi sospettavamo, acqua al favore del Sì. Una campagna svolta d'estate, ad agosto, con un sistema di informazione che certamente non ci ha favorito, non avendo alle spalle il fronte trasversale del no, né un partito, un gruppo parlamentare, un partito grande, organizzato, né testimonial, almeno all'inizio, è stata una campagna in salita. Il Movimento 5 Stelle, in particolare Luigi Di Maio, ha vinto questa battaglia. Poteva essere un'occasione per battere l'antipolitica e questa occasione, ai messi, è persa. Ma da come eravamo partiti il risultato è molto importante. Abbiamo raddoppiato, triplicato le aspettative. Se il referendum si fosse fatto di qui a qualche mese, se si fosse rispettata una tradizione che vedeva svolgersi il referendum costituzionale in un'occasione diversa da quella delle elezioni regionali o amministrative, probabilmente avremmo avuto un risultato sensibilmente differente a quello che c'è stato.